Un cordiale saluto dalla redazione di Muoversi in Toscana Info e nel studio Andrea Biagioni. In A1 si segnalano rallentamenti a causa del traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 Milano-Napoli in direzione Firenze. Fare anche attenzione ad un veicolo fermo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud, sempre in direzione Firenze. Mentre si segnala ancora un veicolo fermo in avaria tra Scandici e Firenze in Fruneta in direzione Roma. In Pipilì invece si segnalano code a tratti a causa del traffico intenso tra l'Astra Assigne e Firenze-Scandici in direzione Firenze. Per quanto riguarda invece la città di Firenze si segnala che da oggi 25 giugno a giovedì 28 giugno per lavori sui binari restringimenti di carreggiata all'incrocio tra Via Allori e Via di Novoli per chi proviene da Viale Guidoni dalle 7 alle 18. Muoversi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!